ciao a tutti ragazzi eccoci qua anche oggi con un nuovo video e come vedete siamo qua con una scatola piena di cose nuove da sbabam come vedete ci ha mandato un sacco di doki doki squishy kawaii edition e adesso andiamo a vederli tutti uno alla volta vi chiedo già scusa per la mia voce ma ho un pochino di mal di gola e quindi ho una voce un pochino strana portate pazienza ma andiamo subito a tirare fuori tutto dalla scatola ok quanti sono mio dio allora per prima cosa vedo che qua ci sono i libricini come sempre quindi andiamo subito a vederne uno come vedete sono appunto i doki doki squishy kawaii edition visto in tv quindi sicuramente ci sarà la pubblicità in tv ci dicono ripresa lentissima e devo dire che se sono questi non vedo l'ora di aprirli perché guardate che occhioni che hanno ovviamente anti stress all'interno abbiamo le solite informazioni su sbabam poi la solita storia o meglio una storia perché non è sempre quella anzi cambia ogni volta c'è ovviamente un gioco in questo caso il gioco dell'oca il giochino trova le differenze aiuta il aiuta il dente a raggiungere lo spazzolino ok il giochino del labirinto non capivo ovviamente unisci puntini e scopri cosa apparirà e devo dirvi che questa volta non riesco bene a capire cosa potrebbe apparire confronto il solito che sono sempre così facili da intuire questa volta mi lascia un po perplesso dopo sicuramente lo farò perché sono curioso poi abbiamo colora la scimmia e poi in fondo una specie di sudoku con le cose da mangiare quindi biscottini gelati eccetera qui le soluzioni che non vado a vedere se no mi spoilerò e sul retro ci fanno vedere un'altra immagine di uno di questi doki doki squishy kawaii edition i nomi delle cose di sbabam sono tipo sempre 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 più lunghi fra un po arriveremo a un quarto d'ora di video solo per dire il nome però guardate che carino sono veramente carini e spero siano veramente fatti così perché sono ancora più belli dei doki doki orsetti pasticcioni che vi ho fatto vedere in uno scorso video che vi lascio qui sopra nelle schede ma andiamo subito a vedere la prima bustina di questi qui così vediamo una bustina e poi le apriamo tutti come vedete appunto c'è scritto anche qui doki doki squishy kawaii edition qui nell'angolino ci dicono che sono super soft da questa parte invece c'è scritto ripresa lentissima e poi ci dicono dolci morbidi kawaii visto in tv antistress e squishy tutti e io voglio questo qui rosa guardate che bello che è questo qui rosa e poi c'è anche questo qui azzurro che però mi piace un po meno questo è un gattino questo invece sembra un pinguino e non lo so è molto carino però preferisco questo qui dietro li possiamo vedere tutti vediamo se riesco a mostrarveli e quindi possiamo trovare miss kitty cream che appunto il gattino rosa che piace a me uvetto pinni che è sicuramente un pinguino infatti anche pinni penso si rifaccia a pinguino tutto blu e azzurro poi c'è piperito squid che è sicuramente uno scoiattolo fragolina raccoon raccoon in inglese sono i procioni quindi gli orsetti lavatori poi c'è volpirillo prince che non lo so forse visto così è quello che mi piace un pochino di meno o no non lo so sapete che il mio cervello non andiamo d'accordo da una parte mi piace un sacco dall'altra mi piace meno degli altri boh spero di trovarlo così lo vedremo poi c'è limonella banni che ovviamente è un coniglietto e poi gli ultimi due sono nocciolino teddy che ovviamente un orsetto e mister choco tiger che è ovviamente una tigre come avete visto sono tutti mixati con dei dolci infatti tipo questo pinguino dentro una specie di cono gelato e sono veramente curiosissimo quindi andiamo subito ad aprire il primo così vediamo come sono all'interno troviamo il nostro personaggino su questa specie di booklet e ovviamente io per primo quale ho trovato quello che mi ha creato un po di disturbi mentali nella checklist ma andiamo a vedere il primo libriccino poi come sapete gli altri ve li mostrerò solamente in modo molto veloce e appunto il primo è volpirillo prince abbiamo qui sul suo libriccino un'immagine del nostro squishy che abbiamo trovato all'interno ci sono alcune informazioni su di lui la sua data di nascita il suo dolce preferito e ovviamente di nuovo la sua immagine qui invece possiamo rivedere tutti i personaggi che ci sono in questa linea in questa collezione ma andiamo a tirar fuori questo volpirillo e vediamo com'è ovviamente arriva all'interno del suo sacchettino e devo dirvi che non lo so non mi ispira particolarmente è carino è morbidissimo perché è molto morbido e anche decisamente slow rising come vedete però non lo so non mi convince particolarmente ma come sapete ovviamente è un gusto personale è soggettivo e non lo so questo personaggio in particolare non mi convince però come vedete devo ammettere che è stampato bene colorato bene e hanno anche riproposto qui sul retro le goccioline di glassa viola che scendono che sono tipo comunque delle goccioline di glassa ha tutti i colori stampati nel punto giusto anche qui ci sono delle goccioline l'unico piccolo difetto è questo piccolo puntino di colore azzurro che però secondo me può anche starci nel senso non è così una cosa drammatica e comunque è molto molto morbido il profumo in questo caso è veramente molto delicato si sente poco però ha il classico profumo diciamo il classico profumo da squishy andiamo ad aprire il secondo che se no qua facciamo natale e non vedrai l'ora anche di fare natale il secondo che abbiamo trovato è limonella banni e vediamola subito com'è questa limonella banni ho già provato ad annusarla il profumo è identico a quello di prima quindi il profumo penso sia uguale per tutti ma questa limonella banni è veramente carinissima a parte il fatto che ha delle piccole grinze qui sul musetto è molto più carina di quello di prima secondo me ma queste grinze ragazzi sicuramente voi non le troverete perché ovviamente sbabam quando mi manda la roba me la metto dentro a un pacchettino e se ce n'è tanta si schiaccia chiudendo la scatola e quindi a volte possono schiacciarsi tra di loro ma sicuramente se le acquisterete in edicola non succederanno queste cose anche lei veramente molto carina anche lei con i suoi dettagli colorati e forse è un filo meno morbida e un filo meno slow rising di quello di prima potremmo fare un paragone proviamo vediamo allora sì a schiacciarlo questo qui sembra un pochino più morbido e no anzi pensavo fosse più slow rising lui e invece no ho sbagliato comunque mettiamoli da parte e andiamo avanti prendiamo un'altra bustina subito così non perdiamo tempo per niente e abbiamo trovato uvetto pinni quello che dicevo che probabilmente era quello che mi piaceva meno però prima di dire che mi piace meno ovviamente dobbiamo vederlo così realmente e infatti devo dire che forse è il più carino finora dentro a questo gelatino ed è anche un po più grande degli altri perché avendo il cono probabilmente risulta più grande devo dire che è proprio tanto carino è forse il più carino di tutti e con lui siamo sicuri che il profumo è uguale per tutti perché anche questo profuma come gli altri due lui è forse leggermente più morbido ma comunque si somigliano veramente tutti e sono morbidissimi sono veramente super morbidi andiamo avanti perché ce ne sono veramente tanti spero di non trovare doppi qui abbiamo trovato nocciolino teddy che visto così è proprio super kawaii vediamo questo è nocciolino teddy dentro la tazzina con tutta la glassa rosa che fuoriesce dalla tazzina è carinissimo anche lui è anche lui super morbido anzi lui è più morbido degli altri vi giuro questo che è proprio il più morbido ve lo assicuro quindi forse è il più tenero e anche il più morbido proseguendo via altra bustina se riuscisse ad aprirla in questa bustina abbiamo trovato mister choco tiger quindi finora nessun doppione per fortuna e vediamolo ecco qua anche mister choco tiger gli occhi sono un pochino inquietanti mi piace l'idea che non abbiano fatto le pupille nere a nessuno perché come vedete hanno tutti la parte più scura ma non è nera è solamente tipo in questo caso blu su azzurro ma lui secondo me dovevano fare le pupille un pochino più scure infatti qui come vedete ha le pupille verde molto scuro in questo caso risultano leggermente inquietanti però è stra carino con le zampine qui sulla glassa di cioccolato e c'è anche la sua codina no vabbè bellissima la sua codina qui sopra ci sono le striature anche qui a lato questo è veramente uno dei più carini peccato appunto per questa cosa degli occhi occhietti anche se poi dopo due secondi ci si comincia già ad abituare il profumo è sempre uguale e lui è un leggermente meno slow rising e meno morbido degli altri devo dire che gli altri risultavano leggermente più morbidi secondo me dipende anche tanto da come è messo il colore perché certi sembrano avere una specie di patina più rigida intorno tipo anche solo questo qui qui sotto sembra essere un pochino più rigido confronto alla parte superiore quindi penso che sia tanto anche quello comunque andiamo avanti perché sto parlando troppo in questa abbiamo trovato miss kitty cream o bellissima finalmente non vedevo l'ora sono troppo contento di averla trovata ed è gigante è forse la più grande di tutti vabbè guardate che carina che con qui sotto questo rosso che però fortunatamente non è propriamente un rosso è tipo un rosso fragola quindi un pochino più sul rosa perché sapete che il rosso e il giallo però è troppo carina con sopra la panna con la ciliegina la sua codina qui dietro veramente carinissima però anche questa è una di quelle leggermente meno morbida è proprio come mister choco tiger che abbiamo appena trovato il penultimo ci siamo quasi speriamo che siano tutti diversi piperito squid che non mi pare di aver già trovato no infatti non l'ho trovato che mi perdo ma non l'ho trovato quindi vediamolo subito e questo poverino ha avuto un qualche incidente di percorso all'interno della scatola questo vi assicuro che a voi non succederà come vi ho già detto perché se vedete proprio schiacciato piatto qui e qui davanti perché probabilmente si trovava schiacciato tipo così nell'angolino della scatola e quindi questo è quello che è successo in teoria dovrebbe anche riprendersi con il tempo io lo spero perché è molto carino ma così risulta diciamo un pochino speciale non so se mi spiego però ragazzi questo è veramente morbidissimo è veramente il più morbido di tutti e forse è proprio per quello che si è schiacciato così perché essendo più morbido risulta anche un pochino più delicato però questo è veramente il più morbido di tutti ovviamente anche lui ha la sua codina e devo dire che anche i suoi colori sono stampati piuttosto bene finora ne ho trovati 7 in tutto quanti sono vediamo 1 2 3 4 5 6 7 8 quindi se dovesse riuscire a trovare fragolina raccoon vuol dire che li ho trovati tutti senza neanche un doppione sarò mai così tanto fortunato proviamo e speriamo però non riesco ad aprirla cosa succede ok vediamo che ho trovato secondo voi ho avuto fortuna sì wow non ci posso credere anche perché ragazzi quelli di sbabam non possono neanche loro sapere cosa c'è all'interno e quindi anche loro mi mettono le cose un po a caso ne hanno presi 8 e per fortuna sono 8 diversi così adesso vediamo anche fragolina raccoon e li abbiamo visti tutti ed ecco qua fragolina vi devo dire che è la più bella secondo me ma veramente la più bella qui possiamo vedere la sua codina che passa da dietro arriva fino sul davanti guardate che occhioni e anche le ciglia disegnate tipo sembra quasi un eyeliner ma secondo me sono le ciglia su tutti e due gli occhi con la sua fragolina qui sopra vediamo quanto wow la più morbida è un pochino più grande degli altri se vedete la grandezza è leggermente più grande degli altri ed è morbidissima quindi se doveste comprarli vi assicuro che io spero per voi che troviate lei perché è morbidissima è la più morbida e secondo me anche tra le più carine quindi ragazzi questi erano tutti i nuovi doki doki squishy kawaii edition e devo dirvi che sono veramente un sacco kawaii li vedete anche solo per questi occhioni enormi sono veramente super kawaii li potete trovare ovviamente in tutte le edicole come tutti i prodotti sbabam ad un costo di 4 euro e 99 alcuni di voi mi hanno detto che secondo loro il prezzo è troppo alto ma vi devo dire che gli squishy ragazzi costano mi rendo conto che qualcuno possa dire è una cosa piccolina è semplicemente tipo della gomma piuma ma purtroppo anche se guardate su qualsiasi sito che vende squishy o da qualsiasi parte gli squishy costano io ne ho alcuni che mi erano stati mandati in collaborazione l'anno scorso che costavano anche sui 20 30 euro l'uno quindi vi assicuro che 5 euro per questi squishy fatti in questo modo con tutti questi colori non sono comunque tanti soldi sono diciamo un prezzo adeguato sono comunque un prezzo adeguato quindi se vi piacciono correte in edicolo adatta ad acquistarne almeno uno sono comunque molto diversi dagli orsetti pasticcioni che abbiamo già visto qualche video fa l'unica cosa che mi dispiace che secondo me la cosa delle palle come abbiamo visto negli orsetti pasticcioni era decisamente più accattivante e più carina nello spacchettamento di queste semplici bustine blind bag è l'unica cosa per il resto io probabilmente preferisco questi agli orsetti in ogni caso ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere qual è tra tutti il vostro preferito visto che ho tutta la collezione il mio preferito credo che sia sapete che non lo so perché adesso mi piacciono tutti penso che per ora terrò mischetti cream come preferita ma probabilmente tra dieci minuti cambierò idea intanto ragazzi come sempre vi chiedo di lasciarmi qui sotto un like di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di seguirmi anche su facebook e su instagram io come sempre vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao